ma che formativa non sono mica un professore eppure un sacco di gente viene a cercare consiglio qui per esempio vince un tipo leggermente arrogante e poi c'è elena un tipino leggermente aggressivo e lorenzo un tipo lorenzo lorenzo ah ecco dov'era poi ci sono io guarda che bei sandali e tu cerchi qualcosa